Oggi presentiamo una bottiglia, sempre Umbra, abbiamo il Pantagrero di Tabarrini, annata 2015 e io inizierei col dire qualche parolina sull'azienda, fare una degustazione veloce e poi dedicarci alla particolarità di questa etichetta e dell'azienda. Vai Eliane a parlarci un po' di questo vino. Allora, Tabarrini si trova a Montefalco da quattro generazioni, ma è con Gian Paolo Tabarrini che la realtà vitivinicola Tabarrini lì a Montefalco comincia a concretizzarsi con dei vini che hanno comunque un'importanza sia in Italia sia all'estero. Di 22 ettari 11 sono vitati, classico sagrantino, classico trebbiano e poi vedremo questo grero che parlerò successivamente alla tua descrizione dell'etichetta. Nel frattempo io farei una degustazione per cercare di capire la differenza di questo vitigno sconosciuto ma autoctono dell'Umbria e dire qualche parola e dopo entrare un po' più nel tecnico. Ok, vai. Prima cosa, io volevo chiederti, curiosissima, perché comunque siamo tutti quanti a conoscenza delle etichette di Tabarrini, ma effettivamente non siamo mai entrati nello specifico di questa particolarità. Allora, che cosa posso dire? Allora, le etichette di questo piantagrello, di questo vino, sono rappresentate da fumetti. È un fumetto che racconta sia un po' del vino che del produttore e lo descrivono principalmente come Il vino è come un diario. Allora, intanto sono rappresentate in modo ironico e è rappresentato Gian Paolo Tabarrini che si dà la fuga con una bottiglia di piantagrero. Perché si dà la fuga? Perché ci sono pochissime bottiglie, c'è un numero molto limitato di questo vino, di conseguenza è molto ricercato. Allora, ogni cosa particolare di questo vino è che ogni annata, ogni anno viene cambiata etichetta. E cosa possiamo dire? Intanto è rappresentata, è un fumetto con una scena, uno stile è molto cartonesco ed è corredato dal testo, non ha un balloon, cioè la nuvolità intorno, però questo è. Insomma, dici tu invece… Io volevo anche farti un'altra domanda. Sì, che probabilmente rispecchia anche la personalità dei vini di Tabarrini, no? Se noi andiamo a vedere, in etichetta vini rappresentato Gian Paolo, no? Sì, esattamente. La cosa carina da vedere non è un personaggio che ha costruito il suo, tra virgolette, impero, quello che sia su il volere essere qualcuno, però ha dato una personalizzazione al suo prodotto. Infatti lo vedete con l'infradito, secondo te, insomma. Questa, secondo me, è una rappresentazione iconica del vino, sia del vino che della sua personalità, appunto, di Gian Paolo Tabarrini. Sì, perché… scusami se ti interrompo, ma ho avuto modo di incontrarlo Gian Paolo in visita l'anno scorso con l'Ais e lo ammetto, così come lo ammettono tutti, è un personaggio iconico, è un personaggio creativo, è un personaggio dinamico e fa risaltare queste doti ombre, le doti dei vitigni, del carattere della terra, anche nei suoi vini. E io direi, così di primo acchitto, che questo vino, che ha un colore fantastico, un colore pieno, è un porpora, forse con qualche riflesso, ma bello, pochissima… Un po' rubino cupo, sembrerebbe, no? Sì, molto, ma molto bello. E ha la caratteristica di avere tanto fruttato, tanto floreale, quindi è uno di quei vini in cui è presente queste caratteristiche, infatti non è molto tannico, anzi ha quasi un'assenza di tannino, però questo permette a noi degustatori e a noi, insomma, bebitori generali di dare maggior importanza al fruttato floreale. Infatti abbiamo tanta frutta fresca, potremmo dire, una frutta succosa, come un'arancia sanguinella, c'è un lampone, c'è una prugna, c'è ancora fragoline di bosco, è veramente interessante, è fresco al naso, questa freschezza la si vede anche al gusto olfattivo, ed è una caratteristica che permette a questo vino tanta longevità. Infatti ci raccontava Gianpaolo che va a tanta potenzialità di invecchiamento, ovviamente il legno in barrique. E se mi permetti di dire qualche altra parola in merito. Assolutamente. Perché il grero, pianta grero, il nome del vino del grero, è questo vitigno autoctono umbro sconosciuto che Gianpaolo è riuscito a recuperare nel 2007, quando l'ha scoperto attraverso una pianta di una signora lì vicino alle sue cantine, ha deciso di andare nei laboratori e ha scoperto che era questo vitigno autoctono umbro, che aveva di acidità, anche se non sapeva che vino poteva uscire fuori da questo grero. E ha anche saputo di una nuova tardiva, di vendemmia tardiva. L'Opia in 2007 e abbiamo il primo vino nel 2013, poi come tu prima hai detto ci sono sale delle annate che sono saltate. Come nel 2016 appunto ci hanno fatto anche un'etichetta molto ironica su questo tema. Sì, è vero, cioè c'è un'etichetta gialla dove c'è l'enologo, se non erro, l'enologo e il Gianpaolo, tristi per l'assenza di vendemmia del 2016, anziché dal 2015 abbiamo un'annata bellissima, infatti abbiamo un 20% di crescita della produzione Umbra. Insomma, questo è un vino veramente particolarissimo, tu l'hai assaggiato prima, hai trovato tanta freschezza, tanta possibilità, potenzialità in questo, soprattutto anche il colore. Assolutamente. E a nostro avviso ci andrebbe bene anche un abbinamento con una lenticchia di norcia, sempre per rimanere in tema del territorio Umbro, assolutamente. Quindi perché abbiamo portato Tabarrini oggi? Perché ci è piaciuta l'idea di avere un vigneron che portava ancora di più la possibilità di valorizzare il territorio Umbro con le sue scoperte e la caratteristica della personalità polivalente di Gianpaolo con le sue fantastiche etichette. Sì, quello non c'è nulla da dire. Allora, dimmi un po' i sapori, andiamo ora a leggere quest'azione del vino, no? Sì, come ti ho detto prima, faccio un altro assaggio. Nel frattempo, Manuel ha scritto qualcosa, se leggi. Ci sono stati tanti... Dibattiti sull'origine di questo vitigno. A lezioni di viticoltura, il nostro prof Alberto ci ha detto che è stato lui a trovare la pianta madre di 120 anni. Beh, insomma, sì, comunque nel bene e nel male è un vitigno che fa parlare. questa è la cosa importante, cioè parlarne, perché se è un vitigno toctono e ancora non è possibile trovarlo nei libri, non c'è ancora menzionato, è importante che venga risonoto, soprattutto per la sua freschezza che va a contrastare la storia del Sagrantino che invece è uno dei... anzi, è il vitigno potenza tannica che ha. Quindi è il contrastante del Sagrantino, questo credo, però molte. So che poi ha vinto appunto il concorso del Sagrantino a Pondo Montefalco. Non mi ricordo quale è l'anno. Questo non lo so sapere, ma ti raccontacelo un pochino. No, solo ho letto che ha vinto appunto soltanto questo concorso. Secondo una delle caratteristiche ampelografiche del vitigno, di lasciare grappoli a maturare, quindi a surmaturare sulla vite. Questo fa sì che l'acqua evapori e vanno a concentrarsi gli zuccheri o comunque le sostanze estrative, però nonostante questo, non è mai riuscito ad evolversi e avere un titolo alcolometrico che superi il 13,13.5. Infatti questo qui di Piantaglera 2015 ha un 13% di volume. Come dicevo prima, poi un'altra caratteristica è il numero della bottiglia riportato, cosa che non fanno tutti e un pochino vanno a sottolineare l'importanza di questo vino e la rarità insomma. Io direi che ci siamo. Ok, perfetto. È stata interessante. Dimmi. Sì, no no, niente, volevo sempre ringraziarti di aiutarci a noi comunque gente meno esperta di base anche io, però l'importante è vero insomma. Ah, è quello sempre, va bene. Allora, noi salutiamo. Salutiamo, ringraziamo l'istituto. Come sempre, e ricordiamo di andare a vedere le pagine su Spotify, Radio Design su Facebook, Podcast. Sì. E tu voglio dire qualcosa? Null'altro. Poi ovviamente sulle nostre pagine dove ricaricheremo le puntate. Grazie a tutti per averci ascoltato, per averci guardato. Non so se avete fatto domande, non leggo da qui a questa distanza. E niente, è stato interessantissimo, se avete modo di assaggiare Grero assaggiatelo. Grazie Manuel per averci detto dove acquistarlo. E la prossima volta spero che verrai. Ti aspettiamo Manuel. Allora, grazie, grazie e ciao a tutti. Ciao.